Aspira molto Ciao, grazie di essere qui con me oggi Oggi abbiamo finalmente di nuovo come ospite la Carly Ciao Loro chiedono tantissimo, anche tu dormi come in video Adesso faremo anche video Il problema ragazzi è che farei video in due è difficile Perché bisogna trovare il tempo e il silenzio Oggi lei è qui tipo da tre ore Non due ore, tre nove La cosa sono due ore Due ore Abbondanti E stiamo cominciando a registrare video oggi Quindi non è facile Abbiate pazienza Ok Perdonate la pioggia in sottofondo Ma siamo in Emilia Romagna La pioggia qui O l'aggecino per fare i gradini alla testa Insomma Un pochino un piccolo massaggio al viso Al collo Le spalle Le spalle Cominciamo scaldando un pochino La pelle La pelle Anche questo bracciale che mi hai regalato Ma il ditte lì Ho portato anche la crema Crema corpora sugante Ho portato con una crema bollo Insomma Bello suono Cominciamo da qui Allora io comincerei proprio da qui, in cui dovrebbe esserci un po', dovremmo attivare un pochino i rinfonodi Io voglio stimolare questa zona E poi saliamo Metto l'altra crema, prima di legare i capelli un ottimo, legare un secondo i capelli Grazie Non so legare i capelli agli altri È difficile Sì perché sono abituata ad un movimento contrario Più o meno Ok, è bene Ok, mettiamo un altro po' di crema Andiamo a scaldare anche le spalle E cominciamo anche col collo Ok Andiamo Anche un pochino dietro le orecchie Facciamo tutto questo movimento qui Tutto questo movimento qui Tutto il proprio movimento sul viso Per alzare pian piano la testa Per alzare pian piano la testa Anche dietro un po' così Ok Adesso che abbiamo scaldato un pochino la pelle Direi che possiamo dedicarci Direi che possiamo dedicarci a giocare con i capelli Direi che possiamo dedicarci a giocare con i capelli Quindi slega Ok Ok Guardate cosa qui Il Come si chiama? Il Come si chiama? Massaggio testa Stupendo Ok Si fa così Però dobbiamo alzare l'inquadratura E cominciamo Con questo massaggiatore Chi riesce a sciogliere proprio qualsiasi Tensione nella testa Vado a spingere leggermente Da un lato Cerco proprio di grattare anche un pochino Ok Strato Sc 260 Di con i capelli Quali Di cominciamo Come si chiama? Di waccia Sì Sì Il C'è Ni Sì qui anche dall'altra parte cerco di andare un pochino anche sulla fronte e facciamo un po' così e l'ultima volta vediamo anche un pochino in passo com'è stato? bellissimo scusate senza parole adesso andiamo a fare ciò che abbiamo questo in curatura anche il mio amatissimo ovento che è quello che conoscete tutti se qualcuno ha mai visto i video massaggi che è questo qui perché dobbiamo si sente questo comunque che è per l'avere vai spattersi per l'avere e vai spattersi proviamola anche in versione coconut crack che ho visto su TikTok ok coconut coconut crack coconut 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 crack coconut 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 crack ma ripresa più vele forte ora andiamo a dare un po' di olio sulle punte olio per i capelli vado a mettere questo con il strondo molto pieno è una linea lisciante ed è un olio secco lisciante molto per capelli con estratti di lino a vena, saì e amaranto ok e vado sulle punte questo va benissimo da mettere un po' tutti i giorni con tutte le lunghezze per andare ad idratarli con il strano con la attrazione con la attrazione Grazie. 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 Adesso io andrei a spazzolare i capelli. Facciamo una treccia. Grazie. E poi andiamo a fare un po' di deep brushing sul viso per dire quando mettere il panno. Ok? Devi fare tutto in questo momento. Si. Haclesi. Ok. Ok. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Andiamo a fare questo attrezzo Io voglio fare un attrezzo che parte da qui Faccio l'attrezzo solo qui e poi si va a unire a tutto E andiamo a legare tipo di lato Adesso vediamo Partiamo da qui E faccio tre gioche E la metto una sopra l'altra E poi ogni volta prima di mettermi una sopra l'altra Vado ad aggiungere i cabelli Quindi questa Vado sopra Prendo Sto facendo molto morbida E vado sopra Prendo la giocca dal basso Vado sopra quella di mezzo E prendo la giocca dall'alto E prendo la giocca dall'alto E prendo la giocca dall'alto E ando sopra quella di mezzo Sto bevendo filtissi E vieni adesso Continua così Grazie Ok 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 E continuo a mettere una giocca sopra l'altra Tira di un po' Continua ad andare da destra verso sinistra Dopo quando farai uscire il video me lo guardo anch'io Perché così magari imparo a farmela Visto che non sono capace Comunque non credo perché A parli di quanti tutorial di Drecci ti sei visti i miei Li giravi? Eh Guardi Sì Ok I capelli fanno solo stupendo Ok E' un video no e questo che cacca svegni e le chiave lo faccio vedere è così lo trezzo semplice molto molla come una stessa di girabile per questo eccoci qua andiamo un pochino adesso a coccolare il viso con il pennello e facciamo come se avessi una crema sotto questo pennello e dovessi idratare tutto il viso quindi partiamo da qui andiamo come se dovessimo appunto sbargere di crema tutto il viso quindi cominciamo dalla pronte fino ad un attaccatore dei capelli o come se dovessimo mettere il porno kit sopracciglia occhi qui andiamo sempre verso l'alto quindi andiamo dal naso sotto gli occhi e poi le seppie qui facciamo questo movimento sulle labbra e invece è sempre tantissimo anche qui sopra le labbra e su e su e su e su sotto le labbra e su e su e su e ora ancora e anche un piccolo punto ok un po' sull'orecchio un po' sull'orecchio sempre sempre con la stessa tecnica quindi facendo in modo di non perderci nessun punto del viso ti faccio molto attenzione sopracciglia tebbia sugli occhi vedi gli occhi sotto gli occhi sotto gli occhi come se dovessimo andare a fare un lifting un pochino di tutto il viso dai fa e un po' il naso qui ok e adesso e adesso ti muovo facciamo tutta questa curva e ti muovo tutta questa curva sempre i movimenti verso l'alto sempre i movimenti verso l'alto sempre i movimenti verso l'alto sopra il labbra e il labbra e sotto e sotto anche un pochino al collo ovviamente e le orecchie facciamo un pochino anche qui e vado qui ok e vado qui ok ok e ora ultimo step andiamo a mettere un panna questo è un di quei panna che vi vedete spesso usare si chiama happiness panna ed è un po' almeno incizzante visto che siamo andati a rilassare adesso ritorniamo anche un po' energia ma energia buona energia rilassata ha senso energia vitale come se avessimo tolto lo stress adesso ritorniamo energia buona ritorniamo ritorniamo energia positiva e gratitudine applica su tempi e dietro le orecchie e nuca i polsi interni respira attenti 15 minuti inoltre è proprio di poli uso che buono si è molto buono di erbe erbe alpine si è un po' balsamico molto buono adesso che gli occhi lo facciamo usare per bene aspira molto questo questo proprio entra è come se entrasse pian piano si diffondesse tutto il corpo scusami ok e adesso questo palmo vado un po' sulle tempie prendono un po' qui un po' dietro le orecchie un po' sul collo queste zone insomma aspettate un pochino così cominciamo quindi dalle tempie le orecchie ok vado un pochino a prendere gli occhi vado a lasciarli alto questa è bellissima si fa da soli ma quando qualcuno te lo fa è proprio speciale e adesso dietro le orecchie e vado appunto a massaggiare anche dietro le orecchie io adoro questo punto è rassantissimo ma questo massaggio qui quando i capelli legati lo faccio spesso anche da sola mentre mi applico la crema poi applicato dietro il collo quindi adesso lo facciamo di ora andiamo dietro il collo e pure sui polsi è proprio qui e intanto proprio questo profumo valsamico comincia come se andasse pian piano nel corpo e ti risuona tantissima energia veramente lo senti un po' un sacco soprattutto sulle tempie si si pazzesco è assurdo è assurdo proprio qui qui sopra ok 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 e adesso vado anche sui polsi prima uno secondo me fa bene anche quando uno magari ha mal di testa si allora ce ne sono tre c'è il de stress che praticamente è un balsamo invece per quando sei stressato che sa tipo un po' di ramada c'è questo e poi c'è quello dopo te lo faccio sentire c'è quello per la concentrazione bello ancora diverso ok dici tutti bellissimo ok poi eviterei da profumare perchè sennò si toglie un po' questo profumo voglio che vi manca ok io spero davvero questo video vi abbia rilassato vi sia piaciuto e perdonatemi appunto per il sole di sottofatto per i rumori ma vanno così questi giorni e ho fatto il meglio e vi mando un bacione e ditemi che altri video vorreste collegarli e soprattutto se vi piace questa inquadratura perchè vi piace da matti secondo me è molto anche funzionale assolutamente spero mi è trovato una quadra quindi ditemi se vorreste altri video massaggi che ho anche il croce alla Carli è disponibile mi ringrazio assolutamente un bacione vi saluto a me e li spero vi saluto a me vi saluto a me vi saluto a me vi saluto a me vi saluto a me